e bella a tutti ragazzi sono gamer joe e bentornati su un nuovo video di pokemon go nel video precedente abbiamo parlato del rilascio di due nuovi pokemon shiny si tratta di shackle e lapras e infatti di quest'ultimo ho due missioni da andare a riscuotere quindi ragazzi eccoci qua siamo entrati in game andiamo a controllare e speriamo bene chiaramente andiamo sotto le missioni eccole qua come possiamo vedere le prime due anzi la seconda e la terza se volete sono quelle che riguardano lapras oggi mi sento fortunato iniziamo con la prima e speriamo bene andiamo ragazzi prendo anche il timbro niente nella prima missione niente un bellissimo lapras da 1127 punti lotta andiamo a cercare di catturarlo con la nostra bacca ananas perché lapras non si trova wild adesso ho fatto il trucchetto come avete visto della cattura rapida speriamo di averlo preso quindi andiamo immediatamente con la seconda e ultima purtroppo perché come sapete hanno tolto lapras da questa missione quindi la missione era vinci cinque lotte in palestra questa qui sotto o sfide adesso non mi ricordo ragazzi però si trattava di vincere cinque lotte o sfide in palestra ora di preciso non ricordo comunque sia non è più un problema perché non possiamo più trovare lapras nelle missioni sul campo e infatti questa missione che vedete qua di vincere cinque lotte in palestra l'ho presa l'altro giorno dopo le 22 serali che appunto hanno cambiato queste missioni quindi possiamo partire con l'ultima missione riguardante lapras e incrociamo le dita allenatori o le vediamo ragazzi non so cosa sia successo ma quando ho aperto la missione si è crashata è crashata l'applicazione quindi ho dovuto riavviarla ma non è stato shiny l'ho aperto ma non è stato un lapras shiny fa nulla ci riproveremo più avanti peccato perché ci tenevo a catturare questo bellissimo lapras shiny ma è andata così fatemi sapere sotto nei commenti allenatori se voi avete trovato e catturato un lapras shiny e ora allenatori parliamo del rilascio di tre nuovi leggendari all'interno del game magari avrete sentito che qualche giorno fa hanno rilasciato uxi mesprit e azelf questo trio leggendario che mi pare si dice siano i guardiani dei laghi e non si sa se è stata una cosa voluta oppure no da parte di niantic rilasciare questo trio leggendario wild selvatici visto che ora li hanno rilasciati nei raid di livello 5 ma c'è una piccola novità andiamo a vederla insieme uxi mesprit e azelf appaiono nei raid in diverse zone del globo e qui già da titolo si può capire qualcosa nella news possiamo vedere che questi pokemon sono dei leggendari della regione di sinno ma leggiamo meglio insieme le cose importanti da sapere come gli orari e le date infatti da giovedì 2 maggio possiamo incontrare questi tre leggendari nei raid di livello 5 e possiamo vedere che avremo la possibilità di affrontarli fino a lunedì 27 maggio invece i dettagli allenatori che sono un attimino la cosa più importante perché come detto nel titolo questi raid sono divisi in in zone per il mondo diciamo da noi in europa possiamo incontrare mesprit vedete europa medio oriente africa e india mesprit potrà essere affrontato nei raid e per riconoscere questo leggendario si presenta in questa maniera invece in asia pacifica uxi potrà essere sfidato nei raid e uxi è questo qua e infine in america in groenlandia azelf potrà essere sfidato anche lui nei raid che invece è lui ma attenzione allenatori perché se avete una fortuna sfacciata potresti persino incontrare uno di questi pokemon chiaramente quello della vostra regione selvatico e infatti vedete che viene detto qua per ultimo in fondo ai nostri dettagli quindi oltre che incontrarli poterli catturare sfidare nei raid di livello 5 possiamo trovarli wild selvatici questa è una novità assoluta allenatori e soprattutto stupenda come cosa chiaramente è molto ma molto rara trovarli selvatici in giro così però potrebbe capitarvi quindi state attenti al vostro radar se vi segna un nuovo pokemon che non avete ancora registrato perché potrebbe trattarsi proprio di lui come detto noi europei possiamo incontrare mesprit e staremo a vedere se dopo il 27 di maggio faranno a rotazione dei leggendari così che permetteranno a tutti di registrarli ma come detto qualche giorno fa li hanno rilasciati selvatici e infatti allenatori scrivetemi qui sotto nei commenti se per caso ne avete trovato uno e per concludere in bellezza volevo mostrarvi le ultime catture che ho fatto perché ci sono pokemon veramente che meritano allenatori vediamole subito mi pare che nello scorso video vi avevo lasciato qua con queste catture di deoxys giratina 96 per cento e i vari latios a caccia dello shiny quindi andiamo in alto e vediamo eccolo lì ragazzi vede guardate ce n'è come ho detto meritano guardate allora un budev da 96 diciamo niente di che trovato dall'uovo ancora un ghiratina da 87 ivi ma l'attenzione l'occhio va chiaramente su di lui questo stupendo latios shiny da ben 93 per cento di vi ragazzi qua ho avuto una fortuna veramente sfacciata eccolo qua bellissimo con questa colorazione sul verde diciamo verde è lì azzurro marino color marino veramente stupendo questo latios 2158 punti lotta eccolo qua il nostro latios shiny con dragospiro e dragartigli bellissimo ragazzi sono veramente contento di aver trovato anche lui dopo aver preso latios shiny la versione femminile di questo leggendario è uno dei pochi sono gli unici ad avere un sesso perché di solito i leggendari non hanno sesso andiamo avanti eccolo qua shackle ho trovato anche lui allenatori bellissimo shackle che vi avevo detto infatti che andavo a caccia di lui e infatti l'ho trovato questa conchiglietta con quel carapace si presenta shiny come detto in questa colorazione blu invece normale lo sapete è rosso e anche lui è veramente molto ma molto carino eccolo qua il nostro shackle shiny da 64 per cento dv stupendo anche lui ho dovuto aprire veramente pochi shackle ragazzi mi sembra 20 o 30 e poi ho trovato lo shiny anche lui con sassata e vortex spalla mi sono fatto scambiare questo bellissimo gangar shiny perché quando sono stati fatti i ride in giro nelle palestre non c'ero ragazzi e purtroppo non sono riuscito a trovarlo e catturarlo quindi così abbiamo aggiunto anche lui con leccata e psichico purtroppo non è uscito fortunato altrimenti era super ma va benissimo così dopo gangar vediamo altri latios questo qua da 96 per cento molto buono uno snizzle fortunato un driploon un'altra pecorella shiny ragazzi non dico niente vediamo dopo un altro latios da 96 uno da 91 un budd da 98 addirittura squirtle eppini giratina sempre la forma originale come sapete un latios 93 96 e sopra si può già intravedere eccoli qua ragazzi un altro il secondo latios shiny bellissimo l'abbiamo detto 80 per cento di v questo qua un attimino più scarsino però assolutamente ci va più che bene fatemi sapere se avete catturato anche voi questo latios shiny perché d'ora in poi possiamo trovarlo solamente nelle missioni sul campo perché da qualche giorno possiamo trovare nelle missioni sul campo effettuando i timbri settimanali latios latios e mi sembra i tre cani leggendari quindi 5 pokemon ragazzi il prossimo chiaramente è lui per l'evento di pasqua avevamo l'opportunità di trovare questo bellissimo coniglietto buneari in forma shiny perché hanno rilasciato anche lui e infatti eccolo qua allenatori con questa colorazione come detto nel video precedente queste parti rosa eccolo qua di lui invece ragazzi ne ho aperti tantissimi pensavo avevo paura di non trovarlo e mi sembra l'ultimo giorno così ho aperto non avevo neanche guardato se fosse shiny o no guardo all'ultimo ed era lui l'ho aggiunto bene per l'evento di pasqua 2019 possiamo tirar sopra un bellissimo visto perché ce l'abbiamo fatta dopo ragazzi vediamo altri latios tutti latios vedete 91 dovrò poi selezionare quelli migliori e gli altri li cancelleremo speriamo che arrivi presto un evento per le doppie caramelle così almeno diciamo che non li butto così faremo delle doppie caramelle qualcosa in più poi vediamo ecco qua tutti dei pokemon catturati alcuni da ride invece questo registeel scarsissimo ottenuto coi timbri poi ho aperto il pacchetto di melton ragazzi perché ancora qualche giorno possiamo tramite la nintendo switch scambiare qua il pacchetto sorpresa di melton in cui possiamo aprirlo e se ci va di fortuna troviamo lui melton shiny andiamo avanti vediamo un bellissimo buneari 96 per cento di vin non poteva essere questo lo shiny poi un giratina 73 e ho trovato una sempre gli stessi ragazzi trovo sempre gli stessi bulbasaur shiny che anche qua non si riconosce bene per fortuna che mi sono venute fuori le stelline altrimenti lo chiudevo non so neanche perché l'ho aperto perché di solito questi pokemon qua non li vado neanche più ad aprire però per fortuna questo qua l'ho aperto e ho visto i brillantini le stelline e l'ho catturato immediatamente dopo vediamo deoxys ho effettuato il ride di deoxys forma difesa eccolo qua che poi dopo vi faccio vedere nella borsa ho degli altri ticket ex per effettuarne altri giratina glameo bell doom shiny questo qua me l'hanno scambiato tentavamo il fortunato vedete invece niente ancora melton shiny trovato sempre dal pacchetto dal suo pacchetto sorpresa qua mi hanno scambiato qualche taurus per tentare il fortunato ma invece niente poi andrò quindi a eliminarli anche perché sono diventati ancora più scarsi dopo lo scambio e qua un bellissimo cubon shiny ragazzi da questo evento appena concluso ho trovato anche lui così ho trovato cubon shiny preso nella mia zona perché in precedenza quando l'avevano inserito l'ho trovato in brasile così almeno un cubon del mio paese è un cubon brasiliano un po in giro per il mondo poi ragazzi abbiamo uno smirgol effettuato chiaramente con le foto perché solo lì possiamo trovarlo un tyranitar fatto dal ride e poi ragazzi vedete una marea di groudon ma lo shiny che ho trovato è stato ancora lui questo cubon shiny 461 puntilotta è molto carino dai sarà una merce di scambio perché adesso mi sembra ne ho 4 no 4 sicur 5 o 6 quindi lo scambieremo sicuramente a un allenatore che non è riuscito a trovarlo salendo ancora come sapete hanno rilasciato un altro nuovo che qua una settimana si rilascia sempre nuovi shiny ragazzi che è in questo caso diglett eccolo qua per l'evento della terra potevamo infatti trovare groudon nei ride di livello 5 avere la possibilità di trovarlo shiny con quella colorazione dorata l'ho trovato in precedenza 100 per cento dv infatti se volete o se l'avete già visto vi lascio qua nelle schede il video che vi mostro il groudon 100 per cento shiny e invece wide selvatico hanno rilasciato e potevamo trovare diglett shiny che si presenta in questa maniera ragazzi eccolo qua diciamo che è uguale ma solamente con il naso cos'è viola blu eccolo qua il nostro diglett shiny dopo non ho effettuato altre grandi catture avevo trovato vedete effettuato nei ride marowak ma niente di che latias dalle ricerche ancora dei groudon ma niente vedete allora diglett ecco qua i diglett shiny che sono riuscito a trovare uno due tre questi tre diglett shiny quindi uno possiamo farlo evolvere tranquillamente uno lo terremo in forma base ma mi è successa una cosa allenatori l'altra sera l'evento come ogni evento è finito alle 22 e io stavo cercando lo shiny in giro così aprivo sempre diglett apri chiudi apri e chiudi per fare più veloce e cosa mi è successo allenatori che alle 21 e 59 passate apro e trovo diglett shiny ho visto l'orario stavano per scattare le 22 ho fatto più veloce che potevo ma ho lanciato la ball erano già scattate le 22 e quindi una volta catturato diglett shiny sono andato nella borsa a vedere ed era tornato normale porca di quella quindi avrei concluso con 4 diglett shiny ma in questo caso sono rimasti tre non so se un bug questa cosa ho visto che finisce l'evento è una cosa voluta però secondo me dovrebbero sistemare perché l'avevo trovato era lì lo shiny e quindi alle 22 terminato l'evento terra della terra si è diciamo trasformato in un diglett normale e quindi l'ho perso dopo questa spiacevole avventura che vi ho raccontato allenatori scrivetemi fatemi sapere qui sotto nei commenti quanti shiny avete catturato voi di tutti questi perché avete visto ne hanno rilasciati veramente tanti e addirittura se vi è successa una disgrazia così come a me magari non in questo evento in particolare ma magari in uno precedente e se non vi è capitato state attenti allenatori perché magari in futuro vi capita all'ultimo minuto di trovare uno shiny quindi fate il più veloce possibile di lanciare la ball e catturarlo e per oggi ragazzi da gamer joe è veramente tutto spero tanto che il video sia stato di vostro gradimento e se è così vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale gamer joe vi saluta e ci vediamo alla prossima ciao allenatori iscriviti al canale